A tempo pieno mi sto dedicando da un po' di anni, io nasco come architetto e quindi come architetto tutta la mia cultura è sempre stata proiettata verso ogni forma di arte, dal disegno alla fotografia, tutto ciò che è a livello grafico. Col passato degli anni, forse anche con la mia professione di architetto, lavorando molto spesso con i palignani, ho disegnato molti mobili, arredamenti eccetera, ho cominciato a prendere più dimestichezza con i vari tipi di legnami, incominciando a provare a fare qualche cosa così e poi ti capita che c'hai un coltello in mano, cioè non a caso che quando facevi militare per passare quelle lunghe notate di guardie notturne, avevo sempre un pezzo di legno e un taglierino e da un'ora che c'era un paura, poi ci sono apprendere manualità con i legni e quindi poi con la professione, avendo questi contatti con quei palignami e mi piaceva sempre di più stare a contatto con il legno, e quindi non so, lavorare il noce, il ciliegio, la betunula e il tutto poi collegato a un certo tipo di cultura che ho sempre coltivato io, cioè quella della, sono amante della cultura degli indiani d'America, e tutte quante le tradizioni, cioè le civiltà dell'America, dell'America del Sud, eccetera, e quindi io interpreto tutta una serie di figure, come quelle che sono anche riportate sui bastoni, che sono che io chiamo bastoni sciamanici, riferimento ai cosiddetti stregoni, che rievocano quelle vecchie sciamaniche che sono, e quindi c'è un trasparso da tutte le mie sculture, questa passione, questa passione, questa cultura, va bene, ecco perché molte volte, c'è Cari, perché non ti dedica a fare qualcosa di più tradizionale, ma sei lì che mi piace, cioè io apprezzo, estivo, probabilmente c'è la, nel DNA ci sarà un po' in tutti i guardini, c'è il pastore che faceva il timbro per il pane, eccetera, ed è una cosa che apprezzo moltissimo, però, cioè io interpreto la scultura in un altro modo, cioè non è che tutti quanti possiamo fare... Alla fine l'arte è lo specchio dell'anima, cioè uno interpreta l'anima, quello che ha dentro, quello che si sente di... tra gli altri. C'è il bagaglio culturale, è un grande sacco, va bene, e poi c'è tutto, cioè si mischiano tante di quelle cose, di cose che hai letto da bambino, o che hai studiato a scuola, che hai... Allora riempi questo grande sacco, poi c'è tutto, tu lo apri, va bene, ed esce fuori quel qualcosa che si è venuto a creare, questo miscuglio di cose, a me rimane fuori, esce fuori questa passione per i nativi americani, per tutte le etnie di vario genere e via dicendo, e quindi questa qui diciamo... da un po' di anni a questa parte, tralasciando per vari motivi il lavoro dell'architetto, mi dedico molto più tempo pieno alla scultura, anche perché ora da... ecco perché non sono ancora conosciuto, perché non ho ancora organizzato mostre, eccetera, quindi piano piano, grazie anche a voi, vedremo... quindi il termine esatto di questo... di quest'arte si chiama scultura del legno, scultura del legno, che non è niente che... non c'è nessun altro termine... non c'è nessun altro termine... hai niente che vedere con l'intarsio... l'intarsio... cioè tipo io so di quei... di quelli intarsiatori che stanno su alle Alpi, dì, dalla... come si chiama quel... il malaria... no... no... che fanno i crocifissi in legno... io sì... l'intarsio non è niente... sono sempre sculture... sono sculture... in tarsio... quando tu fai quelle... tutte quelle le cornici e cornicette sui mobili... ho capito... sono in tarsio... in tarsio... che ora si usa le fresche... ho capito... sculture in legno... sculture... perché è proprio una scultura... non ci ha detto prima che è stato anche all'estero... no... è proprio un viaggio che feci nello Yemen... anni fa... e mi ha ricordato pure... pure questa... in contrapposizione con la mia cultura che è... sui nativi americani... cioè ho avuto pure questo piccolo assaggio... perché poi non ho avuto più modo di andare nello Yemen... con queste civiltà orientali... e anche quelle mi hanno lasciato un segno... facendo queste donne velate con questi legni molto chiari... pure queste sculture tipo quella africana che abbiamo visto prima... però ecco... diciamo... quello è stato un cenno quello lì... della... della civiltà orientale... cioè è stato un modo per sperimentare una nuova cultura... diciamo così... certo... no... riscontri... in certi tipi di civiltà... io chiamo civiltà che vivono in situazioni estreme... quelle che vive nel deserto... quelle che vive... in Peru a 5.000 metri di altezza... cioè vedi... popolazione che vivono in... in situazioni estreme... ecco... quindi gli esquimesi... e... gli inguit... il popolo inguit... che vive a Polo Nord... quelli vivono... in situazioni... estreme... vabbè... eppure loro a livello artistico... fanno tutta una serie di... di cose... delle maschere... meravigliose fanno... anche perché per loro il legno è sacro... perché il legno non ce l'hanno... quel poco legno che riescono ad avere... quello che gli arriva... che gli arriva... spettacolato... cioè loro... il fuoco lo fanno... lo fanno con gli escrementi... delle renne... eccetera... ma altrimenti loro... che... allora... no... un parallelismo... cioè tutte queste civiltà che vivono... in situazioni... estreme... estreme... non significa proprio... che stanno male... cioè... chi vive nel deserto... però... se ti sai organizzare... cioè... è chiaro che... è... è difficoltoso... ed è una situazione estrema... però quello è il loro modo di vivere... certo... vabbè... allora anche lì... vedi... alcune situazioni... cioè... alcuni villaggi... dove... dei tronchi scolpiti... in un certo modo... che sono una cosa... meravigliosa... così... gli indiani in America... vivono nelle steppe... la steppa... è... è... come se fosse un grande deserto... di erba... che non vedi... non vedi... un albero... centinaia di... di chilometri... e lì... allora tu vedi solamente... queste... queste macchine... milioni e milioni di bisogni... e quindi vivevano... pure quella... è una situazione estrema... certo... e poi allora... a livello artistico... raffiguravano... i totem... i totem... che facevano... i bastoni che io... che io faccio... li chiamo... sciamanici... però sono anche... dei... più che bastoni... che alcuni si possono... chiamare bastoni... perché lo puoi anche utilizzare... però in genere... sono come se fossero dei totem... quindi... una raffigurazione... dello sciamano... eccetera... la prende qualcuno... cioè... ce lo... diciamo... ce lo... più che... erroneamente... possiamo chiamarlo bastone... però questo qui... è un totem... che raffigura... una varie serie di... gli stati d'animo... dell'uomo... dell'uomo che... è... il represso... perché probabilmente... ha... tanti problemi... che... è legato alla terra... è legato alla materialità... a un certo punto... quest'uomo si evolve... va bene... perché... si innauta sempre più... verso la spiritualità... allora sorrida... sorrida... a un certo punto... fa come se fosse... uno sberleffo... alla... una civiltà... perché io sto arrivando... a essere... un essere spirituale... essere morto... ecco... perché sopra... c'è... l'uccello... che in questo caso... raffigura un uca... che... nella... ehm... nello zodiaco... non zodiaco... ecco... tra i segni... ah si... i segni... i segni di zodiaco... capricorno... corrisponde al capricorno... l'ucca... quindi questo sarebbe... il mio segno di zodiaco... e questo qui... rappresenta l'ucca... e l'ucca... e viene molto... interpretato come... come animale... dagli sciamani... dagli sciamani indiani... va bene... è un essere... è... una figura... una figura sacra... in tutti i casi... e quindi... questa qui è una... una mia interpretazione... bellissima... ma... lo stesso concetto... cioè... dell'innalzarsi... dall'essere materiale... alla spiritualità... è lo stesso... il concetto dei... dei buddhisti... nel tibet... che quelli che fanno gli eremiti... va bene... che si vanno a rinchiudere... in una groppa... non vivono... e non vedono nessuno per anni... si cibano di... orzo... e tè... va bene... per cosa... perché si devono innalzare... innalzare spiritualmente... questo è tutto... e quindi... e queste basi... invece... le crei sempre tu... oppure... sono occasionate... è una fetta... di... 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 di tronco di olivo... ti vedono tutte quante... queste olivo... che hai lavorato... cioè... la parte più bassa... ah... sempre la parte più... questa è la parte più bassa... del tronco... è questa di tutte quante... le venature... più o meno... è più simile... a quello... al legno che si usa... per fare le pipe... e quindi... tu oltre alla fantasia... ti piace anche... cioè... quando incominci un'opera... vai oltre alla fantasia... oppure... a parte che comunque... ti... ti tieni più o meno... sul tuo genere... però... è anche... si ma... è mio genere... cioè... non è che mi tengo... mi viene... si ti viene spontaneo... cioè... mi viene... quando... mi viene... mi viene... far uscire quelle... cioè... vengono da sola... è una natura... infatti io non... non progetto mai... non faccio dei bozzetti... tranne... nei casi rarissimi... però io in genere... incomincio... mi guardo il legno... e il legno che mi ispira... ti ispira magari... ti incomincio a vedere un pochettino... dove esce qualche cosa... se esce il becco di un rapace... se esce un... un viso... o... delle fronze... delle foglie... delle cose così... però il legno che mi... ti ispira... che mi... ti ispira... tutto qui... poi... un... il legno... oltre alla forma del legno... e... anche il tipo di legno... cioè... non lo so... un tronco di noce... mi può ispirare... in un certo modo... anche perché la noce... va lavorato... in un certo modo... perché... anche se si lavora bene... però... è... un pochino più duro... di altri legni... eccetera... da lavorare... un... un tronco di cilincio... può anche darsi... che ti dà un'altra... un'altra ispirazione... un'altra ispirazione... lo lavora in maniera diversa... ovviamente... e... allora... banalmente... se un legno è duro... però ti piace... come venatura... e come cos'è... viene da sé... che... vai a trovare... delle forme... un pochettino più... ehm... meno complicate... meno articolate... perché tu sai... se il legno è duro... ed è un pochettino così... da impazzire... allora... cerchi di trovare... delle forme... allora... per esempio... questo qui... è... è ligustro... guarda... questo si lavora benissimo... si... si... è una siepe... invece di essere portata... di combina... di mare a basso... questo si lavora bene... perché... ehm... non si scheggia... non si fa... allora... chiaramente... questo ti porta... a... a poter fare delle cose... delle miniature... delle cose più... più complicate... più complicate... invece... quando vuoi fare delle cose... cioè... dei tronchi più... più grossi... tipo noce... eccetera... lì devi... non puoi andare tanto... per... per i sottili... e quali sono... gli utensili... diciamo... che... maggiormente... utiliti per questo... tipo di lavoro... scaupelli... no... martello di gomma... martello di legno... ehm... perché... martello di gomma... non è un martello... il martello normale... te lo sfibra il legno... e... 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 cioè... il martello di gomma... deve... ammortizzare... deve ammortizzare... il corpo... no... non puoi andare col martello... di ferro... a lavorare così... allora... per le cose grosse... legno... e quindi... non saranno... gli scappelli... gli scappelli... più grossi... con... gli scappelli... di... 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 grandezza media... poi... tranquillamente... con il martello di gomma... poi dipende... da quello... da lavoro... che devi fare... se hai bisogno di molta più forza... vabbè... anche se... di gomma... ci sono... dei formati anche... maggiori... queste qui... per il grosso... ci sono... tutte le varie... poi... tipo... di sgorbie... vabbè... che servono... per rifinire... tutte quante... le cose... le carte... le aspe... per... eh... raspare... un contorno... eh sì... chiaramente... cioè... quando tu... vai a scolpire... cioè... qui... è già passato con la raspa... ed è già abbastanza liscia... qui... vedi... è più... ed è... è che è muido... perché c'è ancora il segno... dello scalpello... lo puoi con le raspe... lì a rifinire tutto quanto... e qui... si vede il lavoraggio... può... rendere liscio questo... perché... una volta... una volta ha fatto questo... con la carta vetrata... vai... a lisciare... a lisciare... tutto quanto... va bene... alcune imperfezioni... le puoi andare... a riprendere... ho con della cera... io preferisco usare la cera invece di usare lo stucco a coloro adatto ci sono stucchi di tantissimo genere però anche se sono stucchi per legno almeno io non sono stato tanto tanto perché col tempo si sbricciola basta che l'aria cambia un pochettino invece la cera essendo un materiale plastico rimane così se mi dici come basta così